E' appena terminata la partita Pagnano contro Bergamo Calcetto, mentre vediamo le parate di Michele Gandolfi chiediamo lui un commento sulla partita. Ma è andata bene, siamo andati subito in vantaggio e consistentemente, nel primo tempo è andata molto bene, infatti abbiamo preso solo un gol, nel secondo abbiamo avuto 10 minuti in cui anche io ho preso due gol magari parabili, però nel complesso è una buona partita controllata. Per te oggi era l'esordio in Under 21, visto che sei portiere della Juniores, come ti sei trovato? Sono trovato bene, è un altro mondo con le sue difficoltà, però mi sono trovato bene, è un bel clima. Ok, grazie Michele, ci vediamo la prossima domenica. A voi, grazie. Passiamo ora la parola a un giocatore del Pagnano e anche lui chiediamo un commento, mentre vediamo le sue due reti e anche le azioni della partita. Ciao a tutti, oggi siamo partiti molto già concentrati, infatti il primo tempo abbiamo sasserto parecchio, poi l'ho ripresa, abbiamo preso un gol nei primi due secondi che ci ha dato una botta molto forte, solo che poi siamo riusciti a riprenderci, abbiamo tirato fuori i cosiddetti e siamo riusciti a riprendere in mano un po' il risultato. Purtroppo gli avversari erano superiori tecnicamente a noi e quindi non c'è stato nulla da fare. Speriamo di migliorare le prossime partite e di recuperare un po' di punti anche perché adesso la classifica comincia a essere difficile. Ok, ti ringraziamo e diamo appuntamento alle prossime partite.